Ciao ragazzi! Allora ragazzuoli, bentornati? Anzi no, io bentornato. Dunque, ora non fate caso ma sto cambiando le pelli alla mia batteria. Tamastra Classic Performer, Upinga e Petulla. Le sto cambiando, mettendo su una battente, sulla battente un Emperor, ok? Un Emperor Coated e sulla risonante ci stiamo mettendo un Ambassador. Speriamo bene. Allora, intanto volevo dirvi che sono tornato, quindi dalla settimana prossima rinizieranno i nostri appuntamenti YouTubiani, ok? Sono abbastanza affaticato, ho fatto un viaggio particolare, sono stato in Inghilterra, dovevo affrontare delle cose, dovevo vedere alcune cose, eccetera, eccetera, eccetera. E quindi niente, la settimana prossima rinizieriamo il nostro percorso. La settimana prossima ho deciso di proporre un pezzo di Marcus Miller, su cui io suonerò. Marcus Miller perché io conoscesse un bassista della Madonna, su cui io suonerò, giusto così, per riniziare un po'. Per il resto vi mando un grandissimo abbraccio, vi saluto, scusate ma sono raffreddatissimo, ho un mal d'orecchio e è pazzesco. Vi mando un calorississimo abbraccio, grazie a tutti quanti, grazie per avermi aspettato, per chi mi ha aspettato. E un bacione e ci vediamo la prossima settimana con un nuovo pezzo. Marcus Miller, poi vediamo un po' di cose inizio. Ciao, 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 ciao.